Arrivano dal Very Large Telescope dell'ESO queste spettacolari riprese dell'ammasso stellare RCW38. A catturarle, nella banda di radiazione del vicino infrarosso, è stato lo strumento Hokai. Questo ammasso contiene centinaia di stelle giovani, calde e massicce, e si trova circa 5.500 anni luce dalla Terra in direzione della costellazione delle vele. La zona centrale di RCW38 è visibile qui come una regione brillante e bluastra, un'area popolata da numerose stelle molto giovani e da protostelle ancora in fase di formazione. L'intensa radiazione che si riversa da queste stelle appena nate fa brillare il gas circostante, in netto contrasto con le aree dove è presente polvere cosmica, più fretta, che si snodano nella zona, illuminate di tinte più cupe di rosso e arancio. Le riprese di Hokai hanno sfruttato il sistema di ottica adattiva Graal, utilizzato per correggere gli effetti della turbolenza atmosferica, producendo così immagini più nitide e incisive. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione!